Sesto giorno di chiusura al traffico di strada Carloni. Sesto giorno di quattro mesi in cui sarà interrotto il collegamento rapido fra il quartiere di Moraglia e quello di Celletta per la realizzazione da parte di società autostrade della nuova circonvallazione che di fatto completerà l'anello dell'interquartieri cittadina. Questi primi quattro giorni feriali di chiusura della strada convivevano con il timore di un intasamento di traffico nelle strade più residenziali come via Flaminia e via Fratti. Qualche congestione di autovetture in più c'è stata ma disagi di fatto contenuti per la chiusura di strada Carloni che fine a metà novembre sarà chiusa solo nel tratto compreso con l'intersezione fra via Pantano e via Giorgi. Dopo giorni dedicati all'allestimento del cantiere le ruspe hanno cominciato i lavori soltanto ieri e da subito hanno dovuto convivere con un'altra criticità, quella relativa al taglio di sei querce secolari che si troverebbero sul percorso dei lavori di società autostrade e dunque destinate a un abbattimento. Tagli contro i quali in una settimana si è formato un comitato di cittadini, ci sono un paio di striscioni che lo ricordano costantemente e si stanno susseguendo presidi a difesa degli alberi. Non solo, c'è anche una petizione online vicina a raggiungere le mille firme e il comitato è stato pure sostenuto dal circolo pesarese di Lega Ambiente che ha presentato un esposto contro l'abbattimento inoltrandolo al nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Ancona e i carabinieri forestali di Pesaro, enti che stanno già effettuando sopralluoghi e controlli. Una salvaguarda di alberi che ieri è arrivata anche su un tavolo di confronto fra comitato e comune. Si sta cercando infatti una mediazione con società autostrade che ha presentato un'alternativa all'abbattimento che prevede uno scavalcamento delle radici. Soluzione che però non piace al comitato che sta proponendo ulteriori alternative. Gli alberi dunque vivono ora una situazione di stand by con una decisione che verrà presa nei prossimi due giorni per non tardare oltremodo il cantiere. E dunque si aspettano le prossime ore per capire se l'esigenza infrastrutturale riuscirà a convivere con l'esigenza di tutela del verde.